E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, un saluto da Andrea Di Staso, dallo stadio San Paolo di Napoli. Napoli-Crotone, si chiude qui il campionato di Serie A Team delle due squadre con ambizioni, con obiettivi diversi. Ancora da raggiungere per il Crotone, che rientra in una delle 243 possibili combinazioni per la salvezza. Con cinque squadre raccolte in due punti, si parte! Nalini ha ricevuto palla da Trotta, cerca il traversone. Troppo lungo per Simi, che va attaccato con puntualità alla porta. Però un monologo, quello a parte del Napoli, con Insigne! Che carica al destro! Il rilancio da parte di Martella. Prova ad uscire la squadra di Zenga, ma sbaglia con Barberis. Allora nuovamente Insigne, che si fa vedere. Girata a 3.60, poi grande idea per Milik! Che mette sul palo lontano! E fa 1-0 a Napoli! Al ventitresimo! Giocata da urlo di Lorenzo Insigne! Insigne! Giorgigno non si muove nessuno, linea del Crotone molto appiattita dentro la sua area di rigore. Insegna per Cajacón! Ancora insegna l'assist! E Cajacón entra nella storia del Napoli! Zieliński da fuori! Palla sul paletto di sostegno! Ancora Zieliński! Entra in area di rigore, portato ora sull'esterno da Faraoni. Insigne! Cajacón! Svento l'alzata in calcio d'angolo! E' iniziato il secondo tempo! Altra palla persa! Aggressività del Napoli davvero totale! Milik! Ha cercato la conclusione in sinistro! Si arrabbia tantissimo Allan che voleva il tocco dentro! Milik trova la strada sbarrata! E allora deve andare qualche metro più indietro! Zieliński! Mario Rui da fermo in signe! Napoli riesce comunque ad arrivare! L'imbucata poi in signe per Cajacón! Staffetta! Tra i due centravanti! Finisce la valida di Arkadio Smilic! Mertens! 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 La manda a sbattere sul palo Korda! Amsic! Di prima Mario Rui! Ottima idea! E con cos'una incrociata di Zieliński su quale c'è l'opposizione con la punta delle dita di Korda! Tuminello! Trova il gol per il Crotone! Che accorcia le distanze! Proprio al novantesimo! Di vicefischio! Che arriva ora! Il Napoli! Batte 2-1 il Crotone! Il Crotone è ufficialmente retrocesso in Serie B! Il Crotone è ufficialmente retrocesso in Serie B!